Musica 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 Sì, Sì, Sì Questo è il segno di loro né Il segno di tutti i nostri spettatori No piare marane, c'ai le beccere diri le ghe, dil da tarar marane, dil da tarar marane. RECORDING BY PRIYA STUDY SHYAM PRAKALA MOBIL NUMBER A W034245 GZHUTI SOSGN RIGJANKA MEI KHKAI RIETHE K OY DIN MARO MARO KHAJJE THODER DUR DURDARETHE THODER DUR DURDARETHE E'e giù ti co soggè neri zi ane kàmè E'e khari t'è rei koi d'un maaro maaro Khi t'e Tho'arir d'ur d'arir 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 Hai bello Hai bello Aan Piaare che c'è chi gaudì me tu rai a chi Rai d'yannu thara roda Pesso guzzere c'è Jenga la meri da kè chi Jenga la meri da kè chi Hai bèi Hai bèi Hai bèi a 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